Il Parlamento regionale ha fatto la sua parte approvando il DDL voto, adesso le chiedo se economicamente ecco una formula sostenibile quella delle zone franche montane in Sicilia. Sicuramente le esigenze economiche sottostanti sono sostenibili e sono assolutamente legittime. Si deve poi valutare lo strumento che deve essere intrapreso, intanto questa sicuramente è un'iniziativa lodevole perché costituisce la prima iniziativa legislativa in ambito regionale che prevede l'istituzione di una zona franca montana e soprattutto costituisce anche uno stimolo sia del legislatore regionale ma anche del legislatore nazionale a risolvere il problema in maniera definitiva che riguarda il tema dell'autonomia finanziaria della regione siciliana che in base al suo statuto ha delle prerogative assolutamente rilevanti ed esclusive in materia di fiscalità ma che sono rimaste assolutamente inespresse. Al netto del convegno di oggi l'è stato animatore di questa battaglia, che sapore ha? Intanto ha il sapore della preoccupazione. La strada è ancora lunga, abbiamo messo il primo mattoncino e attendiamo ora l'attuazione della normativa, attendiamo che la commissione paritetica e quindi le istituzioni superiori si determinano e comprendono una volta per tutte che le aree interne della Sicilia vivono una situazione che si sta tramutando in un'emergenza che non sarà più gestibile. Il fenomeno di desertificazione è continuo, inarrestabile, è soltanto un'attività di fiscalità, di sviluppo, non di vantaggio perché non chiediamo nient'altro che far valere il nostro diritto di residenza potrà salvare e potrà frenare quello che sta accadendo. Desertificazione umana e imprenditoriale. Il Parlamento regionale è intervenuto ma è chiaro che bisogna creare una cornice normativa di riferimento anche sul piano nazionale. Siamo pronti ad uno scontro anche feroce con Roma, qualora da parte del Parlamento nazionale non dovesse arrivare un sì pieno al ricepimento di questa norma. È chiaro che le piccole comunità devono essere sostenute, nella prima fase verrà data la possibilità di esonerare dal pagamento di alcune imposte, ma è altresì importante creare ulteriori strumenti a supporto. Per questa ragione dalla settimana prossima andrà in aula un testo del quale sono relatore che è quello del riconoscimento del principio di insularità in statuto. Tutto questo insieme alle zone d'economia speciale, perché no al tema della defiscalizzazione della benzina e al sostegno di alcuni settori strategici come l'agricoltura e il turismo potrà rappresentare il volano per una pagina nuova. I siciliani sono stanchi e ripeto, noi da Parlamento e io in prima persona sono disposto ad andare già la prossima settimana a Roma per creare uno scontro forte che parli di rivendicazioni e di diritti.